Ok, bello a tutti ragazzi, oggi proveremo a fare una battaglia reale in singolo. Vediamo se la skin mi piace. Via. Speriamo di vincerla. Qua di fianco a me ho mio fratello che mi fa supporto morale. Giusto? Giusto, Andrea? Va bene. Quindi, se devo contare sul mio fratello, no. No, conto sul cane. Eh? Ma sì, che conto c'è di te. Ma che bello che sei, oh. Vai, proviamo... Allora, io direi... Sendo che da qualche parte, io direi di andare a Borgo Bislacco. Sì, mi sembra... Sì, mi piace come posso. Perché non l'ha notato, io favo sullo schermo. E... Si va. Se vi interessano altri video, mettete like, iscrivetevi al canale, e ditemi se farei un altro video. Ai dieci like, faremo un altro video. Però, stavolta non sarò da solo. Sarò in compagnia di un amico. E mentre io direi di andare in questa casa... Di andare in questa casa qua. Ditemi qual è il vostro... Il vostro preferito per atterrare... Su Fortnite, e... Cosa ne pensate dall'aggiornamento degli elicotteri? C'è uno da me! No, no, sei zitto, lo spielo ammazzo. Dov'è? Ma cosa si ammazza da solo? No, vabbè. No, 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 no. Cioè, non è possibile. Ho ucciso da una mistraglietta. Vabbè. Lo riproviamo. Bella chi l'ha fatto. E mi butto in un altro posto. Non andiamo più a Borgo. Pensavo ad andare... Non posso un tanto affollato, però dove ci possono far tante kill. Un po' di kill almeno. Ma se no ti dicevo fermati e prendi dalla cassetta. No, se è quello volente, allora no. No. Se c'è, mi fai un'altra, mi chiedo. Eh. Eccoci. Allora... Direi di andare... Di te, il burguero o la G? Proviamo la grotta, dai. O sono i due? Andiamo qua. Proviamo... E vediamo se funziona. Mentre... Mentre... Chi vorrebbe fare... Ehm... Degli 1v1... In alto a sinistra c'è il... Il mio nickname. Cercatemi, invitatemi che io accetto la richiesta. Cercatemi, invitatemi. Sembra che nessuno... ok no no scherziamo Come inizio io spero sempre bene, vediamo un po' Anche passi Ah si, tanto amico è questo Oh porca Non ci posso credere Ma io ti provo, rientriamo alla grotta Dopo due fail, una terza, ti ricordo dovrebbe essere quella buona Proviamo Mentre vediamo qua Ah comunque io ti misero a cambiare schermato skin Sotto nei commenti Io direi di fare un'altra partita E poi possiamo concludere qua No, no, ho chiamato il dottore tre volte in un giorno No, no, ho chiamato il dottore tre volte in un giorno No, no 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 No, guarda Gianni Le pranorte ... Che cosa vogliono far dire? Ma si anche son capace Non togli andiamo di nuovo alla grotta via uso il trucchetto per andare più veloce comunque chi non ha notato nel secondo buco della grotta c'è una faccia del teschio che esattamente si trova la non ci posso credere mi dico ma sti qua non hanno niente da fare mi tocca speriamo bene ok dai spero che non mi ha fatto tutto il loot tutto il loot almeno perchè io vorrei almeno provare a portarmela dietro una kill però vedremo qua nessuno l'ha preso ed è buono vedere che è ok adesso vedremo qua vediamo se ci è entrato qualcuno sento spari e sento anche camminare qualcuno qua di sicuro è entrato perchè hanno spaccato vedremo qua hanno perduto la cesta hanno disattivato quella roba lì andiamo a vedere se hanno preso questa cesta andiamo a vedere se ne ho preso anche questa cesta lo secondo me si 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 l'ho preso e ragazzi io sono messo male ho sentato una mitraglietta delle c4 sento eccolo lì e qua sopra di me aspetto che arrivo giù e inizio a smitragliarlo quella mitraglietta vediamo se ci riesco anzi avrei anche un'idea ok ok oh si è vero ma dov'è di cortare anche giù ok non capisco dove è finito è qua perchè lo sento no 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 solo che sentiamo in passi abbiamo in passi sullo schermo quindi si si lo sentiamo lo sentiamo che si sente meglio che si sente niente sulla tele e cosa adesso vedremo se riuscirò a più ucciderlo ok però prima devo cioè devo trovarlo bocca sono messo male s'ho messo male s'ho messo male s'ho messo male va beh ecco qui con la minigun pure e niente e niente ragazzi state tanti noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi No, 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 no.